Il procuratore dovevo chiamare Pronto? Sono De Falco da Livorno, comandante Pronto? Buonasera, comandante Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante Mi dica il suo nome, per favore Che tiro? Ci sono persone trappolate a bordo, adesso lei va con la sua sciolupa Sotto la brua della nave, lato dritto, c'è una piscacina Lei sale su quella piscacina e va a bordo della nave Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono E' chiaro? Io sto registrando questa comunicazione con la dettiva Allora, corta, 24 anni La barca va, lascialo andare, finché la barca va Tu non rimane, finché la barca va Vai a guardare, quando l'amore viene cantare e lo suonerà Quando l'amore viene cantare e lo suonerà Allora, in questo momento, la nave è disalza Ho capito? C'è gente che sta scendendo dalla piscacina di brua Lei quella piscacina la percorre in centro e verso Sale sulla nave e mi dice quante persone E che cosa hanno a bordo, chiaro? Chi dice che ci sono bambini, donne o persone bisognose di amministra E mi ne dice il numero di ciascuna di queste categorie E' chiaro? Guardi, che dico che lei si è salvato forse dal mare Ma io la porto veramente molto male Le faccio passare l'anima di guai Vado a bordo, cazzo Comandante, per cortesia No, per cortesia, lei adesso prende e fa bordo Vi assicuri che sta andando a bordo Io sto andando qua con la lancia dei due corsi Sono sotto qua, non sono andato da questo fatto Sono qua Che sta facendo, comandante? Sono qua per coordinare i soccorsi Che sta coordinando lì? Vado a bordo, ti coordini i soccorsi da bordo Lei ti rifiuta? No, no, non ti sto rifiutando Lei ti sta rifiutando di andare a bordo, comandante? E mi dica qual è il motivo per cui non ci va? Non ci sto andando perché ti sta verso l'anima che ti sta fermando Lei va da bordo E' un ordine, lei deve fare altre portazioni Lei ha dichiarato l'abbandonata nave Adesso comando io Sei di bordo a bordo Il signor Comandante? Non mi senti? Mi ha andato a bordo Mi chiami immediatamente da bordo C'è il mio soccorritore lì Dove sta il soccorritore? Il mio soccorritore sta a prova Avanti Mi sono già dei cadaveri che tiro Avanti Quanti cadaveri? Non lo so, vuole lo so Vuole lo sentito Mi lo tenerebbe a guardi scelto Lo vinto Ma c'è il mio soccorritore lì Ma direbbe cosa che è buio che qua non vediamo E che vuole tornare a casa se è nero Ma è che vuole tornare a casa? Ma guarda sulla grua della nave tramite la birgacina E mi dica Cosa si può fare? Quante persone ci sono? E che bisogno ha? Ora Ma guarda sulla grua della nave tramite la cosa Vengono dei malati Come? Non stiamo a comandare in seconda Wengono dei malati Ma dite tutti e due allora Tutte e due Come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Dimitri Dimitri cosa? Gli cani che tiri Ma dite E il suo secondo Si è in apporto Ora E' chiaro Ora io ne sono in apporto Semplicemente Che la mia Mi voglio tornare a casa Di confronto C'è il mio soccorritore E' un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a porto, va a porto, e mi dire a dire, e mi dire subito a dire, quante persone ci sono Il cane che a lui dire va a portare, partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come la rica